La Calabria è stata colpita da un terremoto nella serata di domenica 27 ottobre con epicentro nei pressi di Cellara in provincia di Cosenza. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Volcanologia ha rilevato una scossa di magnitudo 3.7 alle 20.51 a una profondità di 21 chilometri. Subito dopo si sono verificate altre scosse più leggere sotto magnitudo 3 che hanno continuato a scuotere lievemente la zona. La scossa principale è stata percepita chiaramente in diverse località calabresi suscitando preoccupazione per la popolazione. Numerose le segnalazioni sui social provenienti dai comuni di Belmonte, Calabro, Lamezia Terme, Rende, Mendicino, Pianopoli, Catanzaro, Acri e altre aree limitrofe. L'epicentro è situato vicino a vari comuni della provincia di Cosenza tra cui Apriliano, Figline, Vegliatturo, Mangone, Santo Stefano di Rogliano, Pietrafitta, Rogliano e Pedace. Nonostante il forte impatto percepito al momento non sono stati segnalati danni edifici o persone, solo un po' di spavento tra i residenti alcuni dei quali sono scesi in strada per sicurezza. Grazie a tutti.